Stop & Gold vi aspetta per un'ultima grande puntata. Ti saluto, è stato un piacere. Ciao! Con i gol della Serie A in anteprima. È un sbalto! La Juventus va in vantaggio all'ultimo minuto. Tutte le notizie dalle società per la prossima stagione. Chi potrebbe mettersi al posto di Sedos sulla panchina? Rosso-Nero. E l'allegria della nostra squadra finalmente al completo. Cosa dite? Meglio qui o meglio dal vivo? Scino è grande! Il capocannoniere! L'appuntamento è per domenica alle 22.40 con Stop & Gold Night. Che gol! Perché per vedere tutte le reti, ti basta una sola rete. Cielo. Gol!